marzo asciutto e april bagnato beato il villa anche seminato io ho 40 anni non mi ricordavo ok 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 stop trucchi non ce ne sono stop 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 quant'acqua ci vuole per avere il pomodoro pomì noi per produrre il pomì abbiamo il nostro ufficio agricolo che mangiare pomodoro fa bene perché qui in zona ci sono tutte belle ragazze nei momenti di crisi tu vai in cooperativa e ti tiri su di morale